E allora, hai voglia di migliorare immediatamente e in maniera semplicissima la tua esperienza utente su Windows 10 e su Windows 11? Io ti faccio vedere come. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! E' già un po' di tempo che diversi membri della community mi hanno chiesto di parlare di una certa cosa, di che si tratta di un software edito dalla ottima azienda Sordum, che si chiama Easy Context Menu, e che è in grado di migliorare, ma di tanto, la nostra esperienza utente con Windows. Ma attenzione, si tratta di un qualcosa di cui avevo già parlato più di un annetto fa, quindi non dico agli albori del canale, ma quasi, ma che avevo trattato forse un pochino troppo di sfuggita. E allora, quale migliore occasione per andare a riprenderlo e dargli un'occhiata un po' più approfondita? Andiamo a vederlo insieme. E allora, non perdiamo neanche un istante e andiamo immediatamente a procurarci gli attrezzi del mestiere di oggi. Per farlo, apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca digitiamo, come sempre, Gentiluomo Digitale. Ok, effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio Gentiluomo Digitale.it. Facciamo clic per aprire il sito e, una volta che si sarà aperto, ci dovremo portare in alto sulla sezione che si chiama Downloads. Clicchiamo per aprirla e portiamoci in basso nella pagina fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Easy Context Menu. Potrai tranquillamente scaricarlo facendo clic sul pulsantone azzurro, ma nel caso in cui non dovessi riuscire a trovare questo o qualsiasi altro download che ti ho presentato sul canale, niente panico. Portati qui in alto sulla lente di ingrandimento, facci clic su e digita anche semplicemente un pezzo del nome del programma che stai cercando. In questo caso io scriverò Context. Effettua la tua ricerca premendo invio e vedrai che ti compariranno tutti i risultati relativi. In questo caso facciamo riferimento a questo download qui, quello che si chiama Easy Context Menu. Cliccando andiamo a scaricare il file, cliccando su quest'altro pulsante andiamo ad aprire la cartella dei download che lo contiene e potremo anche chiudere la finestra del browser retrostante che ormai non ci serve più. All'interno della cartella download andiamo a fare un doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato che si chiama ec underscore menu punto zip e trasciniamo sul nostro desktop la cartella contenuta al suo interno. A questo punto potremo chiudere anche la cartella compressa che a sua volta non ci serve più. Ok, è arrivato il momento di testare il software che abbiamo appena scaricato. Per farlo apriamo la cartella che abbiamo appena messo sul desktop e vedremo che al suo interno ci sono la bellezza di due eseguibili diversi. Uno si chiama ecmenu.exe, il secondo invece si chiama ecmenu underscore x64.exe. Che cosa fanno questi due file? Sono due file che dovrai utilizzare alternativamente a seconda che tu abbia un sistema a 32 o a 64 bit. Ma ricorda questo, se non sai se il tuo sistema è a 32 o a 64 bit, il primo file, quello che si chiama ecmenu.exe, andrà benissimo per qualsiasi occasione. Io sono su Windows 11, Windows 11 è sempre e solo un sistema operativo a 64 bit e quindi faccio doppio clic sul secondo. Clicchiamo sul pulsante Esegui per confermare di voler eseguire questo file. Clicchiamo ancora sul pulsante Sì per confermare di voler attribuire i privilegi amministrativi a questo software ed... Eccolo qui! La nostra finestrella principale si è appena aperta. Andiamo a darle un'occhiata. Come puoi vedere, al suo interno c'è letteralmente il paese del Bengodi. Pensa, ciascuna di queste è un'opzione che puoi aggiungere al tuo menu contestuale di Windows 10 e di Windows 11. Ma che cos'è il menu contestuale? Il menu contestuale è quello che apri ogni volta che fai clic con il pulsante destro del mouse, esattamente come ho fatto io in questo momento. Come puoi vedere, il menu contestuale di Windows 11 è particolarmente scarno, anche se facciamo clic su Mostra, Altre opzioni, ci sono poche cose, ma ognuna di queste voci può essere aggiunta. Facciamo un esempio e andiamo a vedere come funziona esattamente questo programma. Supponiamo di voler aggiungere la voce Elimina file temporanei con la relativa funzione al nostro menu contestuale. Dopo aver selezionato la voce che ci interessa, andremo a cliccare su questo pulsante. Questo è il pulsante che, per l'appunto, va ad applicare le modifiche immediatamente, senza bisogno di riavviare, sul nostro menu contestuale. Facciamo clic, sentiamo questo suono che ci conferma che la modifica è stata effettuata, ma andiamo anche a fare una verifica. Se infatti adesso vado a fare clic nuovamente con il pulsante destro del mouse sul mio desktop e vado a mostrare le altre opzioni, vedrò che sarà comparsa una voce Strumenti al cui interno si trova la possibilità di eliminare, per l'appunto, i nostri file temporanei. Facciamo una prova, clicchiamo e vediamo che la cartella Temp è stata pulita. Ma visto che ci sono così tante opzioni in questo programma, quali mi conviene attivare e quali no? Beh, direi che le opzioni generalmente sono tutte quante molto sicure, a patto ovviamente di usarle con criterio. È logico che se andiamo ad utilizzare l'opzione che ci fa eliminare definitivamente i file da un computer, dobbiamo essere molto sicuri nel momento in cui la andiamo ad utilizzare. Ma questo naturalmente non vale solo per questo programmino, ma per qualunque operazione noi compiamo sul nostro computer. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio quali sono in realtà le opzioni che ho attivato io su questo PC. Ma prima di continuare una piccola precisazione, ti potrebbe sembrare che alcune voci, come ad esempio elimina i file temporanei che abbiamo appena visto, siano duplicate all'interno del programma. Ebbene, non è corretto. Nel senso che le voci ci sono più volte perché possono essere applicate a diversi menu contestuali. Non dobbiamo infatti dimenticare che il menu contestuale cambia in relazione al contesto in cui andiamo a fare clic. Ma andiamo a vedere le voci che ho attivato io su questa macchina che sono, elimina i file temporanei che abbiamo appena visto, riavvia Windows Explorer che ci consente di trarci d'impaccio con un solo clic destro del mouse nei casi in cui l'Explorer si dovesse bloccare sulla nostra macchina. La voce riduci memoria da non confondere con la funzionalità che ti ho presentato un paio di video fa che si riferisce invece alla cache, mentre questa voce va a svuotare delle altre porzioni di RAM indebitamente rubate non solo da Windows ma anche da altri programmi. Una serie di voci che conviene avere a portata di mano sul clic destro del nostro mouse come gestione computer, gestione attività, il prompt dei comandi, l'editor di registro e segue che ci consente di lanciare praticamente qualsiasi file semplicemente con un clic destro gestione dispositivi, il pannello di controllo finché ce lo lasciano usare come abbiamo detto proprio nel penultimo video e la voce svuota cestino che ci consente di sbarazzarci dei file inutili una volta per tutte senza il bisogno di andare a cercare l'icona del cestino stesso. Le altre voci sono tantissime, alcune come ti ho detto sono duplicate e le altre le rimetto alla tua personale scelta e ai tuoi gusti. E se qualche modifica non dovesse essere di nostro gradimento, ebbene il pulsante disinstalla tutto rimuoverà tutte quante le modifiche che abbiamo appena apportato al nostro pc. E allora niente paura, rimboccati le maniche e buon divertimento. Insomma, nonostante che questo programma sia un pochettino datato che tu abbia Windows 10 o che tu abbia Windows 11 può migliorare veramente di tanto la tua esperienza d'uso per cui non solo non esitare ad installarlo e a provarlo ma non esitare nemmeno a consigliarlo ad un amico a cui pensi possa essere utile condividendo questo video. Ma veniamo a noi e soprattutto veniamo ai ringraziamenti del giorno che ho accumulato un pochettino perché domenica scorsa non sono riuscito a farli e quindi ho qui con me la mia mitica listina fatta alla maniera tradizionale con carta e penna. Quest'oggi ringraziamo Britchim, Stefano Moroni, Max Rigp GSM, Goffredo Marini, Luca, Lino Parisi, Enrico Falzone, Giuseppe Sbarbaro, Spapari, Denvito85 e Alex per essersi abbonati oppure aver rinnovato il loro abbonamento al nostro canale. ma attenzione squillino le trombe perché abbiamo anche qualche annuncio speciale da fare. Infatti dobbiamo ringraziare Benia Zan, Umberto Sancasciani, Agostino Carnevale per essersi sia abbonati al nostro canale ma attenzione in qualità di distinti gentiluomini per cui cari amici è un vero piacere ed un onore togliermi il cappello farlocco davanti a voi. E ancora ringraziamo Enrico Falzone che con il suo super grazie ha voluto contribuire al sostentamento della nostra community e se pensi che i ringraziamenti siano terminati ebbene no perché ce n'è un altro da fare ovvero quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!